Gianmarco Centinaio, come sta andando la riforma del Senato in Commissione? Sta andando male, perché questo governo ancora una volta predilige le riforme, quelle della legge elettorale, quelle dell'accordo di potere tra Renzi e Grillo, quelle che non interessano realmente ai cittadini italiani, ma preferiscono questo tipo di riforme anziché tutto quello che viene chiesto dai cittadini, cioè lavoro, cioè competitività, cioè rilancio dell'Italia. Perché? Cosa è successo in Capigruppo? Ancora una volta in Capigruppo questa maggioranza decide in spregio alle richieste non solo della Lega, ma di buona parte del Senato, di portare avanti in modo anche frettoloso delle riforme costituzionali, anziché ragionare insieme di quelle che sono le riforme che servono a far ripartire il Paese, la riforma del lavoro, la riforma della competitività, la riforma della cultura e del turismo, che sono due tasselli importanti per quanto riguarda l'economia di questo Paese, e preferiscono queste cose anziché ragionare insieme e ragionare in modo concreto di quelle che possono essere delle riforme vere per far ripartire il Paese. Ai suoi dubbi il Ministro Boschi che cosa ha detto? Il Ministro Boschi ci ripete in continuazione che le riforme costituzionali e la riforma elettorale sono la priorità del governo Renzi e che bisogna andare avanti, bisogna andare avanti a tappe spedite e non ci si può neanche fermare a ragionare. Anche questo penso che non sia una bella cosa. E mi spiego meglio, chi fa le riforme costituzionali non deve pensare alla prima pagina sui giornali o al prossimo servizio televisivo. Chi fa le riforme costituzionali deve pensare al futuro, deve pensare a una riforma che sia il più lunga possibile, debba durare il più tempo possibile. E per fare questo tipo di riforme ci vuole del tempo, ci vuole della pazienza e ci vogliono soprattutto delle buone idee. La fretta non porta buone idee. Facciamo un pace indietro. Ieri una grande vittoria della Lega Nord sui costi standard. Sì, una grande vittoria della Lega. Per fortuna, finalmente, almeno su alcune cose si può ragionare, almeno su alcune cose si può parlare. Però è vera una grande vittoria, però riteniamo che ci voglia qualcosa di più. Bisogna comunque incalzare questo governo per far sì che una vittoria un giorno non diventi una sconfitta il giorno dopo. Grazie.